Il Giardina Compatto, la prima storia biennio di nuova generazione. Andrea Giardina, grande storico, autore di numerosi manuali scolastici di successo, ha ideato e realizzato Il Giardina Compatto, nuovo manuale di storia per il biennio. Il Giardina Compatto è uno strumento didattico progettato per rendere più facile, operativo e appassionante lo studio della storia, secondo le nuove disposizioni sui libri di testo. È essenziale nei contenuti, semplice nella forma e ricco di apparati che organizzano visivamente eventi e dati o li riassumono in schemi ragionati. Il manuale è costruito in modo che lo studente non debba voltare pagina per concludere la lettura di un argomento. Si compone infatti di unità di apprendimento brevi racchiuse in una doppia pagina. Curiosità e attenzione degli studenti sono stimolate da ampie illustrazioni dotate di approfondite didascalie che raccontano le civiltà del passato. L'agile esposizione manualistica è integrata da apparati che illustrano o completano i contenuti, agevolando la memorizzazione. Schemi e tabelle organizzano a colpo d'occhio dati, eventi o processi. Disegni, carte e immagini illustrano gli aspetti salienti delle culture antiche e del Medioevo. La spiegazione del lessico, notevole o di più difficile comprensione, è integrata nel testo. La parola è evidenziata in giallo e il suo significato sottolineato. Gli argomenti di economia, scienza, tecnica sono affrontati con sistematicità. Singole unità di apprendimento, equivalenti a paragrafi, che evidenziano continuità o discontinuità di rilievo fra passato e presente. Le unità di apprendimento di storia, geografia, cittadinanza, sono dedicate ai temi della convivenza civile e ai fondamenti della Costituzione italiana, alla luce delle grandi questioni poste oggi dall'agire umano su scala planetaria. L'Atlante dei Popoli illustra le caratteristiche fondamentali delle principali civiltà del passato, costruendo un percorso per immagini che ribalta il rapporto tra documento iconografico e testo. Opere d'arte significative, reperti archeologici, disegni ricostruttivi o piante di città, diventano racconto con il supporto di testi esplicativi essenziali. Il Laboratorio dello Storico propone una selezione di fonti antiche e di attività attorno ad un tema di particolare rilievo. Altri Mondi, Altre Civiltà è dedicata allo svolgimento delle grandi culture fiorite in Africa, Asia, Oceania e nelle Americhe. Ogni capitolo è chiuso da, in breve, efficace sintesi con esercizi per la verifica e il consolidamento delle conoscenze. Grazie ad una struttura agile e dinamica, graficamente accattivante, il giardino a compatto è un libro da sfogliare soffermandosi di figura in figura, per scoprire i segreti degli oggetti, delle invenzioni e delle opere d'arte realizzate nella storia dell'umanità. Contenuti digitali integrativi per l'approfondimento, lo studio e la didattica interattiva in classe e a casa sono disponibili sul sito www.laterzalibro-internet.it Tra i materiali integrativi, il libro digitale interattivo Essere cittadini, lezioni di cittadinanza e costituzione. Tutti i contenuti digitali integrativi saranno trasferibili e integrabili nell'Aula Digitale, piattaforma multimediale La Terza per sviluppare la didattica in classe e a casa. Un servizio esclusivo per chi ha scelto la qualità La Terza nella scuola e per la scuola. Il giardino a compatto, essenziale, flessibile, la prima storia per il biennio di nuova generazione.